Arriva nel fine settimana la fiera di Forlì, la dodicesima edizione di Saper, la fiera del prodotto tipico di qualità, un vero e proprio viaggio alla riscoperta del gusto e delle tradizioni culinarie delle regioni di tutta Italia, tra sapori, prodotti tipici e artigianali. Un appuntamento oramai consolidato che anno dopo anno porta in esposizione e a disposizione di buon gustai e appassionati del settore il meglio delle eccellenze no gastronomiche nazionali attraverso la valorizzazione delle microeconomie locali. Vi ricordo che a Saper sono presenti oltre 200 aziende che arrivano da tutta Italia, che propongono in degustazione e vendita l'eccellenza del territorio di tutta la penisola italiana. Quest'anno abbiamo la presenza anche di espositori esteri che arrivano dalla Repubblica Ceca, dalla Spagna, dalla Francia e dal Belgio. Vi ricordo anche i nostri eventi, il corso di primo e di secondo livello per idrosommelier, i tre giorni di degustazioni guidate da parte dei docenti AIS, quindi Associazione Italiana Sommelier Romagna, la guida Gola Gustando che verrà presentata all'interno della fiera, il Museo delle Civiltà Palustri con gli antichi mestieri al Padiglione della Cultura Romagnola, i Cunchi Show e Laboratori del Gusto a cura di Harvard, fattorie didattiche e la Scuola Ristorazione di Cesenatico e l'Istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Un ricco programma, quello previsto per la dodicesima edizione di Saper, con una novità assoluta, il nuovo padiglione dedicato al Forli Wine Festival. Cantine che partecipano a questa manifestazione, c'è anche la partecipazione nutrita anche delle marche e faremo anche dei laboratori all'interno dove degusteremo questi prodotti, è un modo per far conoscere il vino, proprio per cercare di far capire che il prodotto romagnolo non ha niente da invidiare ai prodotti di altre regioni. La manifestazione sarà aperta nelle giornate di venerdì e sabato dalle 10 alle 22.30 e nella giornata di domenica dalle 10 alle 20.